Il ricordo del pari di Napoli svanisce sotto la pioggia del Di Bartolomei, dove la Roma torna a se stessa e soprattutto la macchina da gol, fin qui praticamente inarrestabile. Poco può la Dernana se non provarci almeno nel primo tempo, cercando in vano di fermare un avversario tanto bello nello sviluppare la manovra quanto spietato nel finalizzarla. Troppa Roma fin dall'inizio e infatti al terzo, la parità già va in frantumi. Meo espira, Bucri a centro area, legittima quel 9 cucito sulle spalle, volando a raccogliere il pallone e depositandolo oltre le spalle di Piazza Nera. È un avvio scintillante, ma la Dernana sembra non voler stare a guardare. Gli Umbri si istano sulle spalle di Alessio di Bari, che al quinto innesta la marcia giusta e vola fino in area, dove il suo diagonale si spegne di un soffio al lato. Avvisaglia che però con l'ex Vigor non si deve scherzare. Ribadite un giro d'orologio più tardi, quando su di lui deve immolarsi Laurenzi, prima che Annatrella osservi sfilare a pochi passi dal palo la ribattuta di Lora al Monte. Sono carezza un pari che non arriva, ma soprattutto errori che commessi a Trigoria costano caro. Dopo i due brividi rossoverdi, Bamba apre per Bucri, andando a riprendersi un pallone che dai piedi dell'ex Ostiamare passa per quelli di Chierico e poi ancora del numero 11, che con un rigore in movimento a disposizione punisce gli sprechi e rimette in sicurezza la strada verso il successo. La Roma allunga, ma al grado di Bari provi nuovamente a riavvicinarla al quarto d'ora, approfittando del suggerimento di Tancredi per controllare e far tornare a tremare Annatrella. Altro errore, altra penitenza, sotto forma di un rigore che il signor Ruggero fischia alla mezz'ora per l'atteramento di Bamba. Dal dischetto Cangiano non sbaglia e il tassametro corre ancora. Il Tris spegne definitivamente la Dernana, mentre i giallorossi volano sulle ali di una Guleada che inizia a prendere forma nel finale, quando Proietto cala il poker, aiutato anche da una deviazione. Si va all'intervallo con l'impressione sia tutto finito e infatti la ripresa è quasi solo Roma Show. Rubinacci spedisce dentro Barbarossa che entra al sedicesimo e cinque minuti più tardi aggiunge un pizzico di invidia a chi da fuori guarda un'abbondanza di prime punte coi fiocchi e dopo Bucri anche l'altro nove timbra il cartellino. È un punteggio che non cambierà più, malgrado Cangiano provi ulteriormente a mutarlo con una rovesciata tanto bella quanto infruttuosa. E successivamente Annatrella si tolga la ruggine di Dosso, rispondendo in una singola azione ai tentativi di rapire una questione che il numero uno nega Pavanello, Kubai e Di Mey. L'ultimo sussulto è il palo di Simonetti prima che i tre fischi chiudano una gara già abbondantemente in ghiaccio.